Io non credo che ci siano risvolti legali, i danni non ne sono stati fatti, nessuno ha patito pericolo in questo momento. Io credo invece che sia una buona azione amministrativa questa, la sicurezza prima di tutto dei studenti, del corpo docente, quindi è bene procedere senza se e senza ma. Appoggia totalmente la linea della sindaca di Oderzo Stefano Marcon, presidente della provincia. Proprio il Sant'Artemio è competente per la parte relativa al liceo Scarpa, visto che l'edilizia degli istituti superiori è materia dell'ente di secondo grado. In questo caso una parte dei liceali sarà trasferita nei locali della parrocchia San Vincenzo di Oderzo, un'altra a Motta di Livenza, dove peraltro si trova la sede centrale dello Scarpa. Resta il tema di fondo ed è generale, ovvero lo stato di salute delle scuole nella marca. La decisione di Oderzo potrebbe aprire un fronte fra i primi cittadini. Marcona, dal canto suo, ricorda gli sforzi fatti negli ultimi anni per l'edilizia delle scuole superiori. Le ricognizioni che abbiamo fatto in provincia di Treviso hanno portato qui quelle risorse che stanno mettendo in ordine tutte le scuole provinciali. In questa di Oderzo non c'era alcuna visaglia. Ci stiamo già attivando per candidare la realizzazione di un nuovo plesso in quel di Oderzo, cercando di sfruttare bandi che sono stati messi a disposizione dalla regione. Quindi faremo le corse per portare a casa qualche risorsa per nuove edificazioni. PNRR che nelle scuole della Trevisiano dovrebbe cubare diversi milioni di euro di nuovi interventi. Una pagina questa che per buona parte va ancora scritta. Grazie a tutti.